E adesso nel prossimo servizio continuiamo a respirare il clima natalizio e vediamo un presepe vivente davvero speciale. Il cuore blu dello Iov tra le braccia di Maria e Giuseppe, un presepe vivente simbolo di rinascita, condivisione e ricerca, quello allestito nelle sale dell'Istituto Oncologico Veneto. Un sorriso commosso accompagna i protagonisti di questa sacra rappresentazione, tanto più significativa in un luogo dove la paura, spesso puro terrore, si trasforma in consolazione, speranza, molte volte in guarigione. E allora Maria e Giuseppe, due pazienti, sono i simboli di questo percorso. Maria è Enrica Mengato, 35enne, paziente di Abano Terme, colpita due anni fa da tumore al seno, che proprio nel periodo di Natale, in piena pandemia, aveva iniziato il percorso della chemioterapia. Giuseppe è Lorenzo Rama, 23enne, di due ville nel Vicentino, che ha sconfitto un sarcoma. Accanto a loro la vivandiera Stefania, responsabile dell'unità operativa semplice tumori ereditari Giuliano e Roberto, volontari del Lavo, Laura ed Erika, infermiere. Una squadra stretta attorno a quel cuore, che per quanti varcano la soglia dell'Istituto è sempre simbolo di speranza. Un cuore che attraverso la ricerca, parole del direttore generale Patrizia Benini, diventa stella cometa, perché permette di guardare verso l'orizzonte e di coltivare il sogno di un mondo finalmente libero dal cancro.